In arrivo anche in provincia di Salerno le prime dosi di vaccino Pfizer pediatrico che saranno inoculate con un dosaggio ridotto rispetto a quello degli adulti avranno un tappo di colore diverso per meglio distinguerlo dai flaconi per la popolazione over 12. Dal 16 dicembre partiranno le vaccinazioni anti-covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Nella città di Salerno le somministrazioni inizieranno giovedì a partire dalle ore 15 all'ospedale di via Vernieri mentre negli altri comuni della provincia di Salerno saranno vaccinati nei punti territoriali pediatrici e in luoghi deputati separati dai percorsi per la vaccinazione agli adulti. A dirlo questa mattina il responsabile covid, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, direttore struttura complessa servizio igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell'asale di Salerno. In attesa del via le somministrazioni della prima dose di vaccino anti-covid per i bambini ad oggi sono 844 i bambini della provincia di Salerno prenotati in piattaforma mentre in Regione Campania si è raggiunto alla quota di 3.644 prenotazioni, 45.000 la palatea potenziale dei vaccinabili in tutto il salernitano. Noi 16 come nel resto della Regione faremo giornate dedicate alla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. Avremo centri aperti riservati ai bambini in tutti i distretti. Nella città di Salerno questo centro sarà presso via Vernieri l'abituale centro vaccinazione infantile. Avremo altri centri anche in alcune strutture vicino a strutture ospedaliere. Stiamo lavorando perché in prospettiva alcune di queste vaccinazioni per i bambini si facciano anche negli ambiti di istituti scolastici disponibili. Fino ad oggi l'adesione a questa vaccinazione che ribadiamo come sempre in adesione volontaria non è altissima. Per adesso abbiamo prenotati circa 850 persone. Se queste 850 persone si legheranno tutti giovedì a fare la vaccinazione in serie probabilmente riusciremo ad assolverle. Però è importante che anche gli altri bambini si iscrivano. Questa vaccinazione non ha nulla di più pericoloso di quella fatta agli adulti. È arrivato il momento dei bambini perché le categorie più fragili precedenti siamo ad un'ottima copertura. Ma per poter circoscrivere la diffusione della pandemia, per gestire meglio il tutto, è importante che anche i bambini da 5 a 11 anni vengano vaccinati. Per cui il mio invito a tutti è di iscriversi in piattaforma e di far sì che anche i bambini si vaccinino. Per far questo la regione ha fatto anche un apposito accordo con i pediatri della medicina di base che possono dare una mano anche a iscrivere direttamente loro i bambini sul portale in modo tale che si facilitino anche proprio l'operazione di iscrizione. Inoltre i pediatri potranno partecipare sia presso i centri vaccinali attivati da noi dove saranno presenti anche pediatri già dipendenti dell'azienda o convenzionali dell'azienda ma anche pediatri libri e professionali ma potranno anche vaccinare nei propri studi.